Ragazzuoli bellissimi, questa è la schermata di caricamento, siamo nell'app sviluppatore e finalmente posso farvi vedere tutto il resto Negozio stagionale, passe, mot, sfide, un sacco di roba, in cambio vi chiedo un pollicione perché poi dopo ci sposteremo sul Clash Royale ufficiale perché devo finire la sfida Iscrivetevi e campanella è fondamentale per rimanere aggiornati, pass del moschettiere, ragazzi io ve la butto là Prova a fare una teoria no? Ma non è che questi sommatti e praticamente ci hanno messo cannone moschettiere adesso a novembre e a dicembre il domatore voluto perché poi a Natale del solito tornava sempre il domatore col babbo di Natale no? Vi giuro potrei impazzire Ma accontentiamoci del pass del moschettiere finalmente con delle torri wanted, quel pass classiche ricompense dovrebbe essere tutto quanto uguale al nuovo stile di pass Mercato tutto ok, vi faccio vedere anche le carte potenziate, codici Crax alla fine dello shop se lo shoppate, Supercell Store per il pass plus ve lo consiglio Per il pass legend, che poi non c'è sta più quello gold quindi vi conviene prenderlo lì Ok, carte potenziate, tutto quello che riguarda il 2.6, cannone, golem del ghiaccio, domatore e moschettiere che sta là in alto Giusto perché se lo vado a switchare praticamente che succede? Cioè se lo vado a rimuovere te lo piazza esattamente lì, perfetto Per quanto riguarda le missioni lasciate perdere che è buggato, andiamo a vedere gli standardi Uh, molto Red Dead Redemption Belli con sta Bandit e si vede dietro il moschettiere, poi c'è sta il moschettiere col cannone in coppia Poi c'è sta, regà non lo so, il principe nero Versione umano, bello, e questi paesaggi bellissimi, c'è sta pure l'esplosione Per quanto riguarda le motte del percorso delle leggende, delle leghe, è un boscaiolo, un tronchetto, un principe Si sentono tutti presi un po' de mira secondo me Dallo sparo del moschettiere, ok stanno tutti sul chi va là Passa Royale, quello reworkato, bellissima l'immagine Un po' come la Season, quella Wanted di Bell di Bro Stars Si può sbloccare il moschettiere pass che sicuramente Crax andrà a acquistare per il 2.6 per forza Avremo alla ricompensa numero, bisogna scendere sotto, è come quella da adesso 56 lo standard animato gratis, più le torri Wanted molto carine E poi il frammento Jolly, buonissimo Ok questo per quanto riguarda il pass, andiamo a vedere il negozio stagionale Abbiamo frammento Trivella che mi servirà Prenderò il 3 su 6 perché sto proprio a 0 Frammento Jolly Beast da prendere Libro delle carte epiche, molto bene Leggendarie Magarciere e Log Le altre carte, vabbè, le vedete qua Questo è il negozio stagionale Possiamo vedere già le sfide, abbiamo sfide Elisir Nero Una bella emote e con uno standardo del moschettiere Vi ho mostrato tutto in quel momento di tornare indietro nel gioco Perché Crax deve giocare, aprire i laghi droppini Ebbene sì, qui è tutto ok Penso di non essermi dimenticato nulla Eventualmente aggiungo Ci mancano 270 zappate Andiamo, andiamo Un euro per favore Giochiamo, spacchiamo tutto Nel frattempo parliamo della teoria Perché non può succedere Ma se dovesse accadere Io un po' me l'aspettano Anche perché diciamo che il loro intento è quello di guadagnare Loro vogliono guadagnare Immaginatevi un pass del domatore a Natale Dopo che tu hai fatto una stagione dedicata al 2.6 Moschettiere e cannone Io penso la gente impazzisce Faranno proprio il record di soldi Ecco, se avessi avuto il cannone qui, quello lì evo sarebbe stato clamoroso Regà, io vi giuro, ho paura Ho tanta, tanta paura Peccato che il paletto sta lì, non riesca a zappare Non è detto che riusciremo a fare la sfida Spero De solito escono fuori video incredibili Natale Domatore Fallo Clash Royale Fallo per noi amanti Del domatore Che poi io posso mettere il Goblin Steine verso i maialini Pollo Crax Li posso zappare tutti e faccio una marete zappate Io andrei più col domatore Metto la Queen Si attiva torre Bella situazione per lui Intanto il domatore Qualchietta l'ha portata a casa Mi dispiace ma la Queen la devo per forza lasciar perdere Esatto Se metto il Goblin Steine a destra Se mi piazza i maialetti Però lui ha giocato comunque molto bene Perché la Queen mi spara un bel po' dei colpi Sulla parte sinistra Il mio Goblin Steine va carissimo amico Terremoto Non te sbagli C'ha pure la consegna Grossa carta per difendere il Goblin Steine Un po' come funzionava ai tempi contro il Principino C'avevi la consegna e cercai di prendere il Principino Lui però non ha il cannone ancora Non l'ho mai zappato Per farvi capire Congievo nessun problema Se mi metti i maialini Sarebbe bellissimo però Lui te li piazza solamente Esatto ragazzi Devo fare l'abilità Abilities now Ho messo il cannone meglio Cioè ha messo la terremoto Non ho messo il cannone meglio Intanto so belle zappatine qui Per la nostra missione Goblone che viene tirato giù Amaramente Non ci possiamo fare nulla Lui c'ha gli schelli Gli ediloggo Senza problemi Anzi io l'ho loggato pure Non gli ho loggato il congelino Ma abbiamo fatto una bella giocata Te tiro la terri Ho sbagliato a metterla Pairo Vero metterla La terri senza Pairo Quel Goblin Steine l'ho perso A sto punto Riesco quasi a tirarla giù Sai che te dico Non serviva il log Lol Cannone Goblin Steine Vorrei provare a zappare un pochino Ma forse Mi tengo l'abilità E vado proprio sotto torre Con domatore Terremoto Per togliere la struttura E cercare di zappare Più truppette possibili Alla fine ho tirato un paio di zappate Il domatore mi tira due No Mi ha tirato una sola hit Il domatore Ma io so un po' l'astro ragazzi Perché a me mi hanno detto Come finire velocemente la sfida E sto continuando a giocare Vabbè Facciamo le partite per scavallare Poi dopo Utilizziamo il Goblin Steine Nelle partite che contano Che sono quelle war Ci sta il per 7 Vai qui Te metti il Goblin Steine E fai il delirio Partiamo col domatore Così se mi mette truppette Poi dopo con il Goblin Steine Le zappo tutte quante Ah Mi mancava eh Era un bel po' ragazzi Che non beccavo la tornata Uh Si ritorna Al vecchio splendore Bomba rollo evo Ok Classico Goblin Steine di Grax Veleno importante Contro il Goblin Steine Ho il congelino Che potrei utilizzare Per depistare il bomber Eh Diciamo che quella Tenchino si va avanti E' vero che quella Terremoto pulisco Almeno quello Ma che è cimitero? Bene col Goblin Steine Molto bene col Goblin Steine E sai che ti dico Se riesco A tirare un'abilità Mmm Mi sa che non mi conviene Perché ormai è scavallato Anche se abilito Fare poche zappate Preferisco farla andare avanti Esatto Così che Quella ha lockato la torre Lui però deve essere tornato Più che con la lapide Mi sa che quello Detornatizza Vado A zappare Non è che io abbia fatto Una bella giocata Sono sincero Penso che Se sia capito Qui deve andare De Schelli triangolo Appena quella va giù Tirare il log Il Goblin Steine però è buono Contro la cimitero Ho ribeccato Tanchino davanti Mille di danno Pensavo fosse off meta E invece lo becchia ancora Cavaliere E allora fermate Bello mio Che è su quella lane Tu la cimitero Non la tiri Non lo so eh Perché Potrei mettere Una pyro avanti Vediamo un po' Se riesco a togliergli Il mago di chiaccio C'ha la veleno Ecco Un gran problema La veleno E' un'ottima giocata Quella del bomber evo però Mo che ci penso E' una grande giocata Quella del bomber evo Mi riesco ad attivare torre E' una giocata rischiosa Quella del bomber evo Ora ho la pyro evo E lui c'ha la lapide Che potevo tranquillamente Tornadare Però una bella bottarella Gliela diamo Il domatore però Mi sa che non hitta la torre Proviamo a spingere Col Goblin Steine al ponte Cercando di far scavallare Il nostro dottore Ok Cava evo Bene Mi metti le truppettine Per piacere Non ho abilitato Difficile come partita ragazzi Molto complicata Perché poi Sto cercando di fare l'abilità In realtà Io contro La cimitero Basterebbe mettere Una terri E sarei quasi coperto Capito Non me la dovrei rischiare tantissimo Poi con la torre centrale attiva Figurati Solo quello adesso Sta troppo avanti ragazzi Non penso di riuscire a gestirla Ce l'ha tornato Sta pure sprecato troppo Per i miei gusti C'ha quella veleno Che mi devasta Provo a staccare Un attimo il Goblin Steine Un pochino più avanti Terremoto E di sicuro Gli scheletrini Non mi hittano Mi mette la veleno Un'ottima giocata Vario in opposite Metto degli schelli E lui c'ha sempre La tornato Intanto terremoto O provo a fare Un out cycle Di quelli micidiali Oppure Mi sa tanto Ragazzi e Grax Difficilmente La racconterà Intanto quella Hitta è entrata Attenzione Tornato Occhio Quella tornato Non incredibile Però io qui Non so Ed ha già girato Però La veleno Prova a predittare La lapide Attenzione Pairo Vai Pairo Ti prego un'altra hit Eh Ormai è entrato Credo ragazzi Entra È vero che c'ha Attenzione Ce l'ha tornato Ce l'ha tornato Terry Mi sa che non ci sto più dentro Rega Perché c'ha la veleno Potrebbe mettere Credo La cimitero Io non penso D'avere il tempo Per ciclare Log e Terry Uno di vita Non ci no Bellissimo Comunque Non credo di aver mai Zappato Partita bellissima Ma ributtato giù Ragazzi Oramai è questione Di vita o di morte Bisogna scavallare Uno di vita L'avevamo fatto Non ci credo Ho fatto male conti A livello 13 Non mi ricordo i danni Potevo farlo molto prima Conservando un paio Di domatori Avrei potuto ciclare Molto di più Ora vediamo Magari siamo fortunati E non facciamo il per 7 Giocando qui O pescatore O pesci in mano Chi sta c'ha O pesci O pesci cross Ci metterei Una zappatina Frizziamo in traiettoria So danni importanti Frizzo tutto il dietro Ok Ci ha buttato pure la furia Non serveva Questo me lo porta a destra Ecco con l'evo cannone Qui che facevo Viterizzavi la fireball Sì C'era una botta De fireball Lo indebolivi un pochino Ci poteva pure stare Mi sono attivato torre Va bene Cerchiamo di non rischiare Giocate mistiche Il domatore parte C'è sta la pyro C'è sta il pecca Potevo mettere Forse era una bella giocata La pyro Metto il mio cobblestone Perché se carica almeno Zappo di sicuro Un bel po' Di robetta Lì c'è stato pescatore Ci metto Pyro Schelli Frecce sbagliate Vado a zappare Frizziamo tutto So una decina De zappatine Sempre carine Metto il domatore E sfruttiamo la pyro Con tanto di congelino Bomber Spara Ok Quelle guardie sono letteralmente esplose Si attiva torre Riesco a frizzare un capello E c'ho la pyro sotto torre Che dovrebbe fare un hit Penso un hit Bene Uuuuh Poto mettere Ho sbagliato ragazzi Qui serviva la pyro al ponte Pollo io Metterò il mio cobblestone Probabilmente si Intanto ha sprecato le frecce Sugli schelli A noi questo va benissimo Tira la furia Il goblone sicuramente Finirà lì E non si muoverà Il mio però Spinge avanti Andiamo di zapping Ok Il paletto però Ti rimane abbastanza vicino Ste guardie Mi dispiace ma Non è che le sappia mettere Chissà quanto bene Domatore Se mette il pecca C'ho la pyro Torre fatta Ottimo Corone per noi Domatore a destra Congelino Anche perché deve andare avanti Nel pass Belli Prima mi porta avanti Meglio è Scheletrini Per sei Per sei Bene Più le monete Ottimo Bruce Ascetuto Un saluto a SirTag Gli voglio bene Allora Per il pass Siamo Alla cinquantesima Ci mancano le ultime Dieci sogli Nove giorni Se fanno senza problemi E qui però È un po' complessa Ci mancano 200 punti precisi Chiudiamo la scalata Poi dopo eventualmente La gestiamo nel club Anche perché lì puoi fare Una sola partita E devi sperare Che ti vada bene Che becchi magari un deck Che spamma tanto Ecco Già ho sbagliato Però nel per sette Carica nuova bomba Si dovrebbe riuscire a fare Terremoto Sulla parte di sinistra Il goblone Difenderei più il dottore Più che il goblone Giusto? Abilis Sì Ah Sì Abilis Di che cosa? Ho splittato il push C'ho il tencone di là Qui ci stanno i maialini Danni del domatore Era meglio il domatore Dietro al tank Così facevamo il doppio danno E il dottore Andava giù Piazzerei il cannone Perché tante maialini Li ha messi E con questo cannone Mi attivo torre Tolgo la valk E ne esco Bello pulito Mi sono preso doppio danno Su torre da pyro Non è un problema Le sue torre sono tutte quante Indebolite Se lui mi parte Con i maialini Stavolta Il gobby stein Non glielo toglie nessuno Capito che ti voglio dire? Abilità Frizza tutto Amico mio Sì Può Fare Bene Gobblone Magari riusciamo a fare Un centinaio di zappate Qui è domatore Se ti mette Beh torre infernale Senza senso Perché mo la zappa Cleanna Senza terremoto Va giù tutto So tre corone Quindi sei totali Apro qualsiasi cosa Certo Potrò fare qualche zappatina In più Zappa 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 Ecco giusto Per provare a togliere La valk Vabbè meglio che facciamo Le zappate Se la tiene Arriva il congi E io purtroppo Non ho Il goblishtine Andare per forza Di log Grosso dispiacere Qui mi tirano Gli schelli Quello dovrebbe andare giù Gobblishtine sulla destra Sarebbero state altre 20 zappatine easy Dovrebbe avere giusto Le frecce Ma non mi ricordo Maglialini Li porto da sta parte Domatore Potrei anche cedergli In realtà La giocata Perché Terremoto di sicuro Non serviva Non serviva Frizzatina Te prego metti qualcosa Sotto torre Che io possa zappare Ok ho zappato la valk Ho zappato lo spirito Qualcosina abbiamo fatto Lui vuole mettermi Di sicuro Altri Maglialini Ci ha sprecato il cannone Regà Per far quella giocata malefica Gobblishtine Zappa tutto frate Vabbè più d'è così Penso un centina Non credo Non penso proprio Ok poi fermi Ho perso la torre Vabbè l'ha gestita quella di Harry Andata via Orone per noi per il pass Abbiamo scavallato finalmente la lega E siamo alla pozione Cina Uh 10.000 gioli lit Come stiamo messi 348 Li devo spendere Arriverà il video del Gobblishtine Dove lo potenzieremo A livello 15 Per adesso Abbiamo solamente le carte A livello 14 20 corone richieste A soglia Non sono poche Devo prenderne altre 15 Abbiamo preso l'oro Vai Recuperiamolo tutto quanto Ma per quanto riguarda la sfida Ci mancano gli ultimi 100 Vediamo se funziona Facendo una partita In per 7 Tutto questo per prendere 4.000 gioli lit Se me ne vale la pena Ok Occhio perché qui c'è stata Una marea di roba Gobblishtine di sicuro Appena questo Mi è caricato da quella parte Già mi ha girato un domatore 100 zappatene Vado dei Gobblishtine Frizzo qualcosina Già le prime non sono tantissime Però Insomma qualcosa è entrato Mi serve un altro Gobblishtine Prima di prendere Le tre corone E io lo posso utilizzare Una sola volta al giorno Questo mi pressa Quei domatori Gobblishtine Te pareva l'ho messo Sulla veleno Ovvio Mazza che fortuna De Crax Allora il tentativo È andato all'aria Non vi preoccupate Lo recupereremo Tranquillamente In un altro video Perché ho intenzione Infatti sto al 93% Di chiuderla Faremo delle partite Magari con l'occasione Lo portiamo a livello 15 Vi chiedo un pollicione Iscrivetevi E campanella è fondamentale Codice Crax Alla fine dello shop Fatemi sapere Cosa ne pensate Della teoria Del domatore babbo di Natale Secondo me ci potrebbe stare Un bacio Ciao belli Ciao ciao